Per Heskins usiamo adesivi efficaci per la durata del prodotto e anche per impedire che il nastro si sollevi. Per rimuovere il nastro antiscivolo Heskins puoi usare uno dei due metodi mostrati in questo video. Il primo metodo consiste nell'applicare calore al nastro usando una pistola termica. Una volta riscaldata un'area, rimuovi il nastro antiscivolo dalla superficie. Per il secondo metodo usa un raschietto per carta da parati che funziona correttamente grazie al bordo affilato. Spingi il raschietto sotto al nastro per farlo sollevare e rimuovi il nastro dalla superficie. Puoi usare questi due metodi singolarmente o insieme, ma indossa guanti protettivi in entrambi i casi.